Davide Voltan al termine di Fano Ferralpi Salò 1 a 1 ti sei sbloccato, primo gol per te con la maglia verde e blu peccato che non sia valso l'intera posta in paglia Sicuramente sono contento perché sei riuscito a sbloccarmi però comunque abbiamo un po' di amare in bocca perché sicuramente volevamo portare a casa i tre punti però era un campo difficile, lo sapevamo e quindi va bene così, adesso pensiamo al Vicenza, la prossima gara Vicenza, altra partita molto difficile di fatto anche questo un altro scontro diretto perché la formazione bianco-rosso sembra aver ritrovato tanto entusiasmo in queste ultime settimane Sicuramente dopo i fatti che sono accaduti comunque la squadra lotta e sarà difficile andare a giocare contro i loro perché comunque hanno ritrovato entusiasmo col pubblico e sarà un'altra partita tosta Grazie.